Aperti i termini per presentare le domande relative al progetto dopo di noi. L'obiettivo è un necessario supporto sociale e sanitario alle persone con disabilità, ma che non hanno sostegno familiare. Una nuova tappa nel percorso di sostegno alle fragilità, ha commentato il sindaco di Eboli Massimo Cadiello. La previsione regionale ci ha trovato pronti. La programmazione dell'ambito S3 ha predisposto gli atti e siamo in prima fila per garantire sostegno ed assistenza a chi ne ha bisogno. Le risorse a disposizione dell'ambito ammontano a circa 400.000 euro, ricorda l'assessore delle politiche sociali Carmine Busillo. Ogni utente può presentare il proprio progetto per un massimo di 40.000 euro, ma faremo il possibile per assistere a quanti ne avranno necessità nel programmare il proprio percorso di vita, in mancanza di altre forme di assistenza. Il progetto può riguardare sia il profilo sociale che quello sociosanitario, con il coinvolgimento delle strutture dell'Asla. È un obiettivo che riusciremo a centrare con questo progetto, sottolinea il Disability Manager Generoso di Benedetto. Per il futuro ci dovrà essere azione comune per guardare ad un'assistenza integrata che, nel caso dei portatori di disabilità, punti anche al sostegno materiale indispensabile nella quotidianità.